Riteneva di essere al centro di un complotto, spiato dai vicini di casa, Salvatore Gerace, il 56enne che sabato a Crotone ha fatto irruzione nell'abitazione adiacente alla sua sparando in preda ad un raptus ed uccidendo così il 18enne Giuseppe Parretta. Il ragazzo che si trovava in casa insieme alla mamma, Katia Villirillo, presidente dell'associazione Libere Donne, molto impegnata nel contrasto alla violenza di genere, alla fidanzata, alla sorella e al fratello, ha fatto scudo ai propri familiari, divenendo bersaglio dai colpi di pistola sparati con freddezza da Gerace. La vittima è stata raggiunta al petto, alla spalla e al fianco. È stata una mania di persecuzione, secondo quanto emerso, ad aver obnubilato la mente di Salvatore Gerace. L'uomo ha riferito agli investigatori di sentirsi spiato, ritenendo che la moto, uno scooter con il quale sabato Giuseppe Parretta era arrivato a casa nel pomeriggio, fosse un regalo proprio per questa attività di spionaggio. Gerace, dopo il delitto, si è barricato in casa. Prima non voleva aprire, poi ha ceduto conducendo gli agenti nella camera da letto, dove ha consegnato all'arma usata una revolver 38 con proiettili, con matricola a brasa e detenuta illegalmente. Dopo il tragico omicidio, la risposta della città è stata totale. Alcune migliaia di persone hanno infatti partecipato alla fiaccolata organizzata per ricordare il giovane. Il corteo, aperto da uno striscione con scritto Peppe Vive, sorretto da molti suoi amici, si è snodato dal palazzo comunale fino alla basilica cattedrale della città. La madre della vittima, con i suoi due figli, ha partecipato assieme al sindaco della città, Ugo Pugliese. Lo stesso sindaco che ha proclamato lutto cittadino nei giorni del funerale di Giuseppe Parretta. Davanti alla morte di un ragazzo, avvenuta nelle circostanze drammatiche in cui si è verificata, ha affermato pugliese, il sentimento di sgomento e di dolore è unanime e condiviso. Chiedo all'intera comunità di Crotone di rimanere unita, perché la luce della speranza continua ad essere accesa.